Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella seconda parte del video dedicato alle palettes e oggi parliamo appunto di palettes per lo più low cost, ci sono pochissime palettes dal costo elevato quindi è anche molto interessante questa parte e ovviamente anche da questa parte tirerò fuori delle palettes che non uso più che sono comunque nuove. Prima di iniziare però volevo chiedervi se mi fate sapere, a prescindere dal fatto che sono palettes nuovissime utilizzate al massimo una o due volte, volevo sapere appunto, guardate queste sono le palettes che al momento ho eliminato volevo sapere come si fa a disinfettare le palettes, gli ombretti, a sanificarle, insomma fatemi sapere perché anche se sono state utilizzate poco io comunque preferisco in ogni caso disinfettarle quindi se mi fate sapere come si fa, io lo farò ovviamente perché ho deciso che tutte queste palette le regalerò a uno, una o più di uno o più di una di voi attraverso un giveaway quando ovviamente tutto sarà possibile e sarà finito allora nel primo video ho dimenticato di Revolution, visto che abbiamo già parlato delle palette di Revolution ho dimenticato di farvi vedere queste palette appunto a forma di donuts e quindi lo facciamo stamattina io ne ho quattro, ne ho acquistate quattro, allora eccole prima, queste a forma così di donuts scusate perché non ho visto se ho messo il flash eccomi infatti non lo avevo messo allora, sono molto carine queste palette, guardate, sono così fatte così con questa applicazione sopra morbida che ricorda i donuts, è troppo troppo carina allora io ho questa che è la Strawberry Spockles adesso vediamo di aprirla, solita difficoltà e una è quindi questa, incentrata appunto su queste tonalità rosse, vedete? però ecco io questa palette da quando l'ho comprata, l'ho solo sbocciata credo non l'ho utilizzata, quindi è veramente un peccato perché i colori sono veramente bellissimi e quindi assolutamente questa qui la togliamo poi questa versione così con il rosa fucsia e questa si chiama Raspberry Jane ripetiamo un attimo le colorazioni anche questa è più incentrata sui toni del rosa, del fucsia molto bella, poi questo colore guardate è stupendo però anche questa è semplicemente sbocciata i colori sono bellissimi e quindi anche questa la togliamo perché è un peccato tenerla nel cassetto ho letto qualche commento nel video precedente in cui qualcuno mi chiede ma come mai sei così fortunata ad averle e le dai via? lo so che sono fortunata ad averle sono fortunata anche per il fatto che ho sempre lavorato quindi ho sempre avuto la possibilità di spendere qualche soldino in più perché è frutto del mio lavoro però allo stesso tempo sarebbe veramente inutile tenerla nel cassetto e quindi a questo punto preferisco regalarle a chi avrà più gioia più piacere ad utilizzarle rispetto a me che io le tengo nel cassetto allora questa qui è la colorazione chocolate dropped perché non ho gli occhiali non vedo bene comunque tonalità calde, tonalità cioccolato e questa la tengo senz'altro anche se l'ho utilizzata poco e mi riprometto appunto di utilizzarla un po' di più perché questa palettina ha dei colori insomma che a me piacciono molto e non vi ho detto appunto guardate c'è anche il suo specchietto sono molto molto carine anche da portare in viaggio e non vi ho detto appunto che sono molto scriventi hanno una bella sfumabilità quindi questa la teniamo e poi alla fine abbiamo questa gialla che si chiama Maple Glazed quindi vediamo un attimo i colori di questa incentrata appunto su colori caldi vedete il bronzo, l'oro, questo color giallo acido e questa ha dei colori che a me piacciono moltissimo e anche se non l'ho sfruttata insomma adesso mi riprometto di farlo perché i colori mi piacciono molto quindi due le tengo, due le do via per quanto riguarda Catrice io ho solo questa palette che comprai qualche mese fa si chiama Royal Idols e sono 30 colori questa è quella incentrata sui colori bronzo e corallo era uscita una limited edition di queste palette dove c'erano veramente tantissime tantissime palette anche questa vedete ha il suo specchietto e guardate la maestosità e la bellezza di questa palette che ha queste 30 cialde ma neanche piccolissime adesso vi faccio una carrellata di questi colori stupendi questa è molto simile alla palette di Revolution che vi ho fatto vedere una palette veramente versatilissima c'è anche un nero quindi è perfetta molto molto elegante per realizzare dei trucchi glamour vedete ci sono sia cialde opache che cialde satinate che cialdine proprio sono dei veri e propri glitterini è una palette bellissima guardate questo colore quanto è bello Royal Extravaganza si chiama questo ed è una palette bellissima questa l'ho già utilizzata non tantissimo ma ho avuto modo di constatare che i colori sono bellissimi sono molto vibranti sono sfumabilissimi è una palette super super pigmentata e mi ricordo che questa l'ho acquistata tipo sui 19 euro quindi veramente un ottimo rapporto qualità prezzo in cartone quindi si può tranquillamente portare in viaggio c'è il suo specchio quindi assolutamente questa la teniamo passiamo ad Essence questa era una limited edition questa si chiama From Santa With Love un'edizione natalizia guardate è una paletta a forma di letterina sempre in cartone peccato che manchi dello specchietto ma guardate qua che meraviglia mi ricorda non so perché le palette di Nabla e guardate che colori abbiamo colori satinati colori opachi e questi glitter pressati guardate quanto sono belli già utilizzati, già provati colori stupendi e io non so se diciamo poi più avanti questa palette sarà ancora come dire disponibile nei punti vendita però ecco semmai vi doveste imbattere in questa palette prendetela perché è bellissima ottima qualità gli ombretti davvero altra palettina questa era anche una di quelle uscite la scorsa estate Born of Awesome molto carine queste palette anche queste in cartone con il loro specchietto e questa è davvero molto bella ha dei colori particolarmente vivaci dei colori molto estivi perfetti diciamo per la primavera e l'estate questo è un bellissimo illuminante ma nulla toglie che si può utilizzare anche come ombretto anche questo potrebbe essere utilizzato come illuminante questo è un bellissimo ombretto che secondo me è carino anche come blush è molto molto versatile questa palette ha dei colori bellissimi non l'ho utilizzata più di tanto ma mi riprometto assolutamente di farlo altra palette sempre limited edition di essence questa si chiama Barry On ed è incentrata appunto sui colori Barry vedete lampone, ciliegia e la vediamo è carina anche questa è in cartone non ha lo specchietto all'interno e questi sono i colori anche qui troviamo colori shimmer e colori opachi questo è un bellissimo marrone che quindi può ovviare ovviamente al nero e che sta anche meglio secondo me con queste tonalità di colore abbiamo vedete questi bellissimi ombretti diciamo che forse questi sono un po' tanti questi colori chiari anche questo vaniglia è troppo troppo chiaro io preferisco le versioni leggermente più gialline più scure però insomma è una palette veramente molto molto carina questa la teniamo poi questa è la Hola Rio queste sono tutte palette uscite tra la scorsa estate e il recente autunno e molto carina anche questa sempre queste confezioni in cartone vedete anche questa ha il suo specchietto quindi sono delle palette carinissime da portare in viaggio allora mi piace moltissimo questa parte diciamo della palette con questi colori molto molto belli questo viola così acceso questo bel marrone questo color a rame molto molto belli un po' meno questa parte qui secondo me questi colorini chiari sono eccessivi il bianco non lo avrei assolutamente fatto ed è comunque un colore che a me non piace assolutamente e forse anche questo qui sopra insomma sarebbero bastati questi due avrei messo magari due colori un po' più accesi però insomma è una palette che mi piace questa la teniamo questa è un'altra palette sempre della stessa linea si chiama Salut Paris questa la tengo perché il packaging è stupendo l'immagine è bellissima voi sapete quanto io amo i Parigi un po' meno diciamo la palette perché i colori non mi fanno impazzire soprattutto questi tre qui io non credo che li utilizzerò mai sì forse il grigio per uno smokey eyes preferisco diciamo tranquillamente quest'ultima parte la trovo un pochino più carina per quanto riguarda i miei canoni i miei gusti questi due colori qui sopra non è che mi facciano impazzire però tutto sommato la palette è molto carina utilizzata poco ma anche questa mi riprometto di utilizzarla e questa invece è stupenda stupendissima lo so che non si può dire la Epic Sunset questa è una palette che io finché diciamo sono uscita ho continuato a vedere insomma in giro da Tigotà da OVS anche questo è il suo specchietto e guardate quanto è bella sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 sono 14 cialde di ombretto anche questi sono degli ombretti sono un po' più grandi e questo può essere utilizzato diciamo sull'arcata sopraccigliare sull'angolo interno dell'occhio insomma può avere mille utilizzi è un ombretto opaco anche questo è un ombretto opaco di un colore bellissimo e qui abbiamo sia ombretti opachi ma sono pochi perché ne abbiamo solamente uno di ombretto opaco quindi vanno a compensare questi due poi abbiamo tutti questi colori satinati molto molto belli shimmer e satinati questo giallo diciamo acido ritorna spesso in queste palette guardate questo colore è bellissimo ed è una palette molto molto carina soprattutto per l'estate per creare dei look vivaci e poi comunque assolutamente qualità eccellente andiamo adesso a queste palette di Dior che forse sono le uniche ad essere un po' più costose all'interno di questa carrellata allora io di queste palette ve ne avevo già parlato e vi avevo fatto vedere una che probabilmente non avrei tenuto poi ho cambiato idea però oggi sono decisissima a darne via una la qualità degli ombretti è eccellente i colori sono sempre bellissimi però ecco 5 ombretti stiamo parlando di un prezzo superiore credo ai 50 euro quindi comunque diciamo hanno un prezzo un po' proibitivo queste palette malgrado la loro qualità assolutamente però io sia nel primo video che in questo vi ho fatto vedere anche delle palette che allo stesso prezzo magari hanno un numero maggiore di ombretti e un'ottima qualità in questo video vi faccio vedere palette che costano un decimo e hanno un'ottima qualità non paragonabile ovviamente agli ombretti di Dior ma sicuramente delle ottime ottime alternative quindi insomma per chi le può comprare ci mancherebbe ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole però ecco oggettivamente diciamo hanno un costo abbastanza elevato allora vi faccio vedere questa che in realtà era la mia preferita ma che mi sono resa conto alla fine di non utilizzare quindi è quella che ho deciso di regalare i colori sono molto belli c'è questo bronzo che è bellissimo questo color oro questo taneo però ecco mi ritrovo a non utilizzarla non ci sono i pennelli perché comunque tanto i pennelli credete mi sono inutilizzabili e c'è solo un po' di polvere ma come vedete le cialde non hanno perso neanche la loro trama vedete proprio il disegno perché sono state utilizzate poco e quindi questa ho deciso di regalarla e si tratta della numero 556 contrast horizon e la mettiamo qui mentre decido di tenere quella che in realtà non avrei voluto tenere ma che ho deciso che voglio tenere e darle un'altra possibilità questa è incentrata sui colori grigio e nero per realizzare degli smokey eyes tra l'altro questo è un ombretto in crema quindi per fare la nostra base e questa è la numero 208 nevi design e questa la teniamo e poi tengo anche questa perché ha questi colori che sono bellissimi quest'oro al centro tutto glitterato è strepitoso che ha una texture devo dire quasi quasi cremosa questa è la numero le metto sempre al contrario la numero 756 golden shock adesso parliamo di super 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 low cost allora questa è una palettina che credo che sia ancora sigillata mi pare che non l'ho neanche aperta ma neanche swatchata stiamo parlando di wet and wild e questa è una paletta che mi era stata regalata perché avevo acquistato delle cosine sono 5 ombretti molto molto belli i colori ma io li ho già questi colori quindi questa qui la do via wet and wild e credo che si chiami color icon credo non lo so il nome della paletta in questione non lo so però dai è molto molto carina quindi questa la regalo questa invece la tengo ed è la nuova versione della comfort zone che ha cambiato abitino e sono aumentate le cialde perché non sono più 8 colori ma sono ben 10 anche se però è diminuita diciamo la quantità di prodotto adesso vediamo se riesco ad aprirle perché la difficoltà dei prodotti wet and wild è l'apertura delle confezioni allora questa è la palette che è verosimilmente simile alla prima che io ho e adesso vi faccio vedere però io trovo che i colori forse siano leggermente variati i colori che ci sono in più sono queste due cialde grandi di opachi che comunque sono due colori stupendi per realizzare con questo anche un total look su tutta la palpebra e questo diciamo così un colore di transizione poi abbiamo tutti questi colori shimmer molto molto carini adesso la confrontiamo con la comfort zone diciamo nella versione quella quella classica diciamo la prima quando io riuscirò ad aprirla e la mettiamo qui a confronto io direi che questo colore che era quello più bello in assoluto in questa palette io non lo vedo più perché questo qui dov'è? questo è molto molto simile ma non sono identici non vi faccio gli swatch perché altrimenti diventa veramente una tragedia ma si vede ad occhio nudo insomma che non sono identiche e questa cosa mi dispiace un po' perché in realtà la prima versione era veramente molto molto carina sono simili però ecco non sono proprio proprio identiche io comunque appunto le tengo tutte e due questa la prima versione era secondo me veramente stupenda a parte la qualità di questi ombretti che è veramente una cosa incredibile costano pochissimo poco più di 5 euro e la qualità è eccellente mentre do via questa la petal pusher non la tengo perché è molto bello i colori ma ho altre palette incentrate diciamo sui toni viola e quindi non ha senso tenere anche questa è un peccato tenerla nel cassetto per chi ama questi colori a parte questi tre sono stupendi questo in particolare è un colore bellissimo e abbiamo il rosa abbiamo il viola il viola scuro certamente qualcuno avrà più piacere di me nell'indossare questa palette che come potete vedere è nuovissima proprio nuova e terrò anche lei questa è una palettina nuova si chiama rose in the air e guardate quante carine i colori sono bellissimi anche queste proprio super 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 low cost parliamo di 5 euro 6 euro non di più con questi colori bellissimi qui opachi colori di transizione guardate quanto sono belli questi colori per realizzare veramente qualunque qualunque tipo di look super pigmentate queste cialde sfumabilissime ottima durata sugli occhi sia col primer che senza ottima ottima veramente qualità adesso cambio mano altrimenti veramente ah allora adesso vi faccio vedere tutte le mie palette di astra allora io partirei da questa allora questa è la warm temptation anche qui parliamo di prodotti estremamente low cost e questa è una palette appunto il nome stesso lo dice dai toni caldi ho una difficoltà assurda ad aprire le palette con una mano incentrata sulle tonalità calde e insomma le vedete tutte diciamo che sono delle tonalità molto molto simili tra loro e anche questa fila superiore insomma lascia il tempo che trova nel senso che non mi fanno impazzire questi colori però nell'insieme è una palette molto bella dai colori estremamente caldi molto molto nelle mie corde quindi questa la teniamo poi abbiamo questa ero molto contenta quando l'ho acquistata però come vedete non utilizzata questa è la jewels temptation e molto molto carina devo dire ma io la utilizzo poco ecco ci sono dei colori che non fanno parte ecco della mia comfort zone per restare in tema vedete sono belli la palette è stata solo che swatchata guardate colori bellissimi certamente ci sarà qualcuno che sarà più felice di me ad utilizzare una palette con questi colori molto molto carina e questa la mettiamo qui altra cosa invece per questa questa la tengo ovviamente la golden era e la nuova palette di astra vedete anche questa molto carina con il suo specchietto ed è una palette bellissima incentrata su questi colori molto molto caldi abbiamo sia colori opachi come potrete vedere c'è un bellissimo marrone non c'è c'è anche il nero diciamo vi dico subito che sulla palpebra diciamo quei pochi glitter che ha si perdono ecco quindi diventa un nero opaco questi colori sono veramente bellissimi palette super 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 scrivente costa mi pare sui 14 euro sono 15 cialde di ottima qualità e quindi anche questa è un prodotto veramente straconsigliato dopodiché passo a Nabla quindi di Nabla io in realtà possiedo anche una palette che ho fatto con delle cialde sfuse di Nabla però quella appunto non ve la sto mostrando volevo mostrarvi appunto le due palette che riuscite eventualmente ad acquistare perché sono già belle che formate allora questa è la Dreamy la prima che presi ed è la mia preferita in assoluto un packaging bellissimo sono piccoline sono compatte sono comode da portare in viaggio con il loro specchietto e questa è la meraviglia io adoro questa palette tra le mie preferite non c'è un colore che non mi piaccia in questa palette c'è questo marrone che è stupendo secondo me hanno pensato bene di mettere un marrone piuttosto che un nero perché secondo me si abbina meglio alle nuance che sono state scelte per questa palette colori opachi colori shimmer questo qui è stupendo questo viola delirium scriventissime qualità veramente superiore davvero davvero ottimo prodotto di Nabla se ne dicono tante però insomma queste palette sono veramente bellissime e questa è l'ultima arrivata la Dreamy 2 con queste galassie tutta così iridescente bellissimo packaging veramente molto molto bello e molto bella anche la palette che a differenza della Dreamy 1 mi ricorda proprio più il cielo di notte della Galassia con questi colori così bellissimi guardate che meraviglia poi questi viola che sono stati scelti questo è Rem sono veramente bellissimi 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 adoro questa palette super super brillante super accesa e comunque sono colori che si possono tranquillamente usare anche in estate quindi questa la teniamo e in ultimo parliamo delle palette di Kiko eccole qua allora io partirei da questa questa era una limited edition la linea si chiamava King of Hearts questa è la numero 02 non si legge più neanche il nome ma guardate un attimo questa palette i colori sono bellissimi ma io mi ritrovo a non utilizzarla guardate è nuova i colori sono questi color tortora top e questo bellissimo verde oliva molto bella sono tutti colori satinati ma io purtroppo questa palette non la utilizzo ed è un peccato scriventissima bellissima manca il pennello perché io li butto via perché sono inutilizzabili quindi questa la mettiamo qui poi passiamo a queste due palette anche queste limited edition della collezione Sicilian Notes questa è la numero 01 Valley of the Temples e guardate la meraviglia bellino proprio carino il concetto come è stata concepita con questo fiore e questi petali colorati tutto quello che vedete all'interno di questa palette è tutto scrivente sono tutti ombretti i colori sono bellissimi a me gli ombretti di Kiko le palette di Kiko non mi dispiacciono assolutamente nel senso che le trovo delle palette davvero molto 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 interessanti scriventissime colori bellissimi questa è una e poi abbiamo questa qui che si chiama non riesco a leggere Sicilian Baroque ed è la numero 02 adesso la vediamo questa ha dei colori più caldi ed è sicuramente quella che mi piace di più guardate che bello questo al centro questo è stupendo bellissimo tutti i colori il dorato questo bellissimo marrone con questo sottotono rosso bella bella veramente sono contenta di averle prese queste palette perché davvero molto carine anche fatte bene nel senso che sono bellissime poi questa fa parte della linea permanente la numero 101 sono le Color Fever questa è molto bella questa palette la sto utilizzando poco aspettate perché qua è impossibile aprirla e mi riprometto di utilizzarla un po' di più anche se questo è caduto per terra e insomma vedete si è proprio tutto frantumato i colori sono bellissimi sono dei pigmenti pressati davvero molto molto bella poi scrive davvero benissimo e insomma mi piace un sacco quindi questa comunque la tengo poi questa è la numero 02 i Bright Quartet Baked Eyeshadow Palette sono appunto degli ombretti pressati e questa è elegantissima bellissima proprio incentrata sul malva questo bellissimo top e poi malva e il dorato palette da portare in viaggio versatilissima però ecco per la realizzazione appunto di trucchi molto molto leggeri molto eleganti portabilissimi sia per il giorno che per la sera e quindi questa assolutamente la tengo poi ho due palette della linea Smart la 04 e la 03 allora vediamo intanto la 03 se riesco ad aprirla eccola allora qui troviamo in queste palette anche il blush blush molto carino questi sono i colori cioè un marrone un arancio opachi e poi questi due colori shimmer però ecco questi colori li ho anche in altre palette comunque sì mi piace moltissimo ma tra le due preferisco tenere l'altra scriventissima molto molto carina e comoda per il fatto che ha anche all'interno il blush però questa non avendola tanto utilizzata la mettiamo qui da parte adesso vi mostro la numero 04 che è molto molto carina anche questa però trovo che abbia dei colori più particolari mi piace questo abbinamento di questo verde oliva vedete con questo rosso bellissimo questo ombretto e qui abbiamo due colorini un pochino più chiari e è un blush color pesca questa mi piace di più la tengo sono molto carine queste palette hanno un costo che se gira intorno ai 12 euro queste invece le tengo assolutamente sono state una creazione di Kiko veramente fantastica sia per il packaging che è molto carino rappresenta un vinile sono della collezione Pop Revolution questa è la numero 03 Bordeaux Gold e sono queste palette formate da un duo di ombretti che sono luce pura qui abbiamo l'oro e qui abbiamo questo color rame loro dicono bronzo ma non mi sembra proprio un bronzo ed è bellissima i colori sono stupendi mentre l'altra è la numero 02 Red Brown mauve e anche questa ha dei colori bellissimi qualità eccellente guardate che meraviglia questi colori sono veramente luce pura scriventissimi hanno una durata sulla valpebra che è veramente spaziale e niente queste assolutamente le tengo adesso vediamo il risultato di questo decluttering allora 1 2 3 4 e poi abbiamo quelle a forma di cioccolato quindi 5 6 e 7 e 8 queste sono tutte quelle di Revolution poi abbiamo 8 9 la palettina di Astra 10 11 con le palettine di Wet n Wild 12 con la Naked 13 anche la Udra Beauty la Smoke Obsession 13 14 con la palettina di Dior 15 con la palettina di Kiko 16 con la Naked 2 e 17 con la paletta di Kiko quindi ho eliminato dalla mia collezione 17 palette quindi che poi ovviamente io metterò magari ne aggiungerò qualche o qualche altra così facciamo un numero pari e le metterò poi più avanti in palio in un giveaway quindi insomma dai devo dire che ho fatto un po' di pulizia io vi ringrazio per aver visto il video spero di avervi tenuto compagnia e mi raccomando rimaniamo a casa siamo forti vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima ciao ciao